Bentornato sul canale YouTube di Semprefarmacia.it Sudare è un evento fisiologico che permette di regolare la temperatura corporea Quando questa sale, le ghiandole sudoripare vengono attivate dal sistema nervoso Il loro ruolo è quello di produrre sudore, che evaporando sottrae calore al corpo La sudorazione quindi è molto importante, ma se diventa eccessiva può dare fastidio e alterare la qualità di vita In questo caso si parla di iperidrosi Ma quali parti del corpo colpisce, quali sono le cause e quali rimedi? Ne parliamo in questo video, facendo focus anche sui tanto demonizzati sali di alluminio Se il video ti piace, metti like e ricordati di iscriverti al canale Nei casi in cui l'eccessiva sudorazione metta in imbarazzo oppure impedisca lo svolgersi delle normali azioni quotidiane Ci si può rivolgere al medico che indirezzerà il paziente verso l'endocrinologo, il dermatologo o altro specialista Esistono infatti diversi tipi di iperidrosi che può dipendere anche da alcune patologie L'iperidrosi primaria è la sudorazione eccessiva che non è correlata ad alcuna causa o patologia Si ipotizza che sia causata dalla attivazione eccessiva del sistema nervoso simpatico che regola la sudorazione Normalmente questo tipo di iperidrosi si localizza sui palmi delle mani, dei piedi, sotto le ascelle e sul volto Queste sono anche le zone con la maggiore concentrazione di ghiandole sudoripare Quando è possibile individuare una causa della sudorazione eccessiva si parla di iperidrosi secondaria Tra le cause ci sono alcune condizioni fisiologiche particolari come la gravidanza e la menopausa Ma anche alterazioni metaboliche come l'ipertiroidismo e l'ipoglicemia o anche infezioni e tumori Anzi stress possono peggiorare la sintomatologia Per l'iperidrosi esistono diverse tipologie di soluzioni che vengono scelte in base alla gravità della situazione L'igiene personale è molto importante, il sudore appena prodotto è in odore Ma se persisti a lungo sulla pelle, soprattutto nelle zone umide, può dar luogo a proliferazione batterica con irritazione e cattivi odori Per chi soffre di iperidrosi è consigliabile utilizzare detergenti delicati a pH fisiologico E lozioni, creme, spray o roll-on a base anche di attivi ad azione antitraspirante A questo link trovi una selezione dei migliori prodotti per regolare la sudorazione presenti su semprefarmacia.it Tornando a noi, i prodotti specifici contengono sicuramente attivi ad azione lenitiva e molliente Ma gli attivi principali sono i sali d'alluminio che regolano la sudorazione e hanno un'attività batteriostatica Negli anni i sali d'alluminio sono stati praticamente demonizzati, tanto da essere addirittura accusati di provocare il cancro al seno Negli anni però queste accuse sono state smontate dagli studi scientifici Da studi epidemiologici infatti è emerso che non vi è alcuna correlazione tra l'uso di deodoranti con sali d'alluminio e il cancro al seno Altri studi invece hanno dimostrato che l'assorbimento cutaneo dell'alluminio è talmente irrisorio Da non poter avere alcuna attività sulla ghiandola mammaria Giusto per fare un esempio ne assumiamo molto di più con il cibo E comunque in quantità così minime da non poter avere alcuna attività negativa Quindi appurata l'efficacia e la sicurezza di questi prodotti va fatta un'opportuna precisazione Se c'è scritto che sono efficaci per 48 ore significa che regolano la sudorazione per 48 ore Ma nel frattempo bisognerà comunque lavarsi Nei casi più importanti il medico può ricorrere anche a farmaci per uso topico, quindi creme e lozioni A base di anticolinergici come l'ossibutinina o il glicopirrolato Questi attivi bloccano l'azione dell'acetilcolina che attiva le ghiandole sudoripare Potrebbero anche essere somministrati per via orale, ma i loro effetti collaterali Tra i cui bocca e pelle secca, problemi di vista e cardiaci ne bloccano l'impiego È possibile ricorrere anche a trattamenti con strumenti medicali e nei casi più gravi alla chirurgia Tra i trattamenti medicali sembra avere una buona efficacia la ionoforesi Si immergono le parti interessate, generalmente mani e piedi, in delle bacinelle Con una soluzione di acqua e sali nella quale viene fatta passare una corrente elettrica grazie ad un elettrodo Ripetendo questo trattamento in modo regolare si riesce ad inibire l'attività delle ghiandole sudoripare Quando si smette il trattamento però se ne perde anche l'efficacia Il botox non è utile solo per le rughe La tossina botulinica infatti può essere iniettata anche nella zona ascellare dei palmi delle mani e dei piedi Per bloccare la sudorazione per un periodo di circa 5 mesi Ultima spiaggia nel trattamento dell'iperidrosi è la chirurgia Che può prevedere sia la rimozione delle ghiandole sudoripare Sia la resezione dei nervi che le controllano Ovviamente questi interventi hanno molti effetti collaterali e quindi si cerca di evitarli Abbiamo visto cos'è l'iperidrosi e come rimediare abbiamo anche sfatato qualche falso mito sui sali d'alluminio Se hai domande lascia un commento Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it La tua farmacia sempre con te